Sesta giornata del campionato di Serie 2 maschile di Pallannuoto, un prezioso pareggio per il Pescara 9 a 9 ma con parziali che fanno riflettere, 2-4 il primo tempo, 1-3 il secondo, poi 3-1-3-1 clamorosa rimonta per i ragazzi di Checco Mammarella che è qui al nostro fianco avete raggiunto il Civitavecchia proprio sul finire, ma una gara al Cardiopalma, incredibile l'andamento La gara è stata combattutissima, ma il mio rammarico è quello che noi cercavo nel pre partita ho detto ai ragazzi che l'approccio iniziale sarebbe stato non importante, è importantissimo pensavo con quel 2-0 comunque di riuscire poi a continuare a giocare, invece c'è stato un blackout che adesso con calma analizzerò e ci ha portato fino a metà del secondo tempo, sotto addirittura stavamo 7-2 quindi sotto di 5, poi è uscito il vero Pescara, il Pescara che comunque non molla mai gioca con Mordente, abbiamo cambiato qualcosina in difesa, abbiamo sfruttato tantissime ripartenze che ci hanno permesso comunque di raggiungere il Civitavecchia che è venuto qua con una squadra agguerrita formata da giovani e che devo fare i complimenti perché andare sotto di due reti e poi fare un ribaltone così ad arrivare fino a 7-2 sicuramente saranno dei ragazzi in gamba. Quello che posso dire è una partita a due facce, la prima metà di gara molto bene loro, terzo e quarto tempo decisamente meglio noi quindi vedo una partita su due tronchi che però posso confermare ed essere contento che una squadra quando sta sotto di 5 gol riesce per poco a non vincerla questa partita vuol dire che i ragazzi ci hanno messo tutto cuore e anima e hanno fatto un gran recupero quindi complimenti. Si riparte da qui, si riparte dal solito di Fulvio, le solite quattro reti, l'ultima decisiva a 22 secondi dalla fine, una partita che potevate perdere ma potevate anche vincere a un certo punto incredibilmente. Ma guarda, io analizzando adesso un attimo il percorso che c'è stato dall'inizio, noi siamo partiti fortissimi ma non solo, in campionato siamo partiti forti proprio dall'inizio con quei tornei, la preparazione che abbiamo fatto, abbiamo incanalato una serie di vittorie che ci hanno messo tanta autostima, ci hanno fatto salire il morale però venivamo comunque da due o tre mesi che stavamo proprio beneficiamente, poi logicamente vai ad incontrare il Latina ed il Salerno che sono due scogli non duri, durissimi, tu comunque fai delle buone prestazioni, perdi oggi psicologicamente penso che non era proprio facile affrontare un match così agguerrito dove la posta in palio era altissima. Chiudiamo, e adesso? Adesso ci si rimbocca le maniche, da lunedì si torna a lavorare, si pensa alla prossima partita, quello che ho detto un istante su Bio Partita dei Ragazzi è che questo campionato non è duro, è durissimo quindi non c'è niente di scontato e ogni partita va giocata con la massima concentrazione e con la massima voglia di fare perché sennò poi rischi di perderle.